Vi è piaciuto giocare a The Last of Us e ne volete di più? Oppure siete rimasti affascinati dai pericolosi deserti e dalle frenetiche corse in macchina di Mad Max Fury Road? Allora dovreste provare Il Modo dell'Apocalisse Seconda Edizione, scritto da Vincent e Megway Baker ed edito in Italia da Narrativa. Un gioco rivoluzionario, pensato per raccontare storie post-apocalittiche dove i rapporti umani sono messi a dura prova e la violenza è spesso il modo più veloce per ottenere ciò che si vuole. Il concetto di scarsità è alla base di tutto. Se voi avete il cibo, c'è sicuramente qualcun altro che non lo ha e che verrà a prenderselo. Un sistema di gioco corposo e stratificato vi permetterà di vivere avventure fluide e appaganti dove ad ogni lancio di dato corrisponderà un cambio di fronte inatteso che non mancherà di studirvi in più di un'occasione.